Buona giornata, sarò a casa per cena. Ti voglio bene. Buongiorno, signor Fielding. Buongiorno, Katrin. Ed ecco le vostre figlie, Angela e Katrin. È di sette ore fa e sono le ultime informazioni che abbiamo. Katrin! Angela! Se state ascoltando, vi amiamo, per favore, tornate a casa. Ehi, le avete trovate? Che ci facevate tu e Katrin nel bosco? Camminavamo e basta. È tutto quello che ricordo. Angela, puoi dire a tuo padre per quanto tempo sei stata via? Qualche ora. Baby, sei sparita per tre giorni. Cosa hai detto? Non ho detto niente. Pensavo di aver sentito qualcosa. Ehi, Tazara. Stai bene? Aiuto! Aiuto! Ovunque siano andate, qualcosa è tornato con loro. Il corpo è il sangue di Gesù Cristo. Il corpo è il sangue. Il corpo è il sangue. Katrin. Il corpo è il sangue. 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 Ha mai visto niente di simile? Aiuto! Il corpo è il sangue. Mamma. No, ma altre persone là fuori l'hanno visto. Ha esperienza con la possessione? Sì, più di quanto vorrei. Allora può aiutarci a riavere le nostre figlie. L'esorcismo è un rituale. Ogni cultura, ogni religione usano tutti metodi differenti. Ci serviranno tutti quanti. Non avere paura. Ci siamo già incontrati. Mamma. Ma ti prego, fallo smettere. Fa male. Mamma, ti prego. Cosa fa? Ti prego, fallo smettere. Plip. Plop. Plip. Plop. Plip. Plop. Il battito di Katrin. Battono all'unisono. Dio. Vi ha fatto uno scherzo. Plop. 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 Plop.